Un falco pazzo! L'umanità è sopravvalutata! Mmmh! Mi sembra neanche male il rapporto kill partite. Direi, porca brano. Eh, però... Eh, è di quattro, però. Vado a controllo termico o centrale? Ah, piacimento tuo. No, centrale no. No? Guarda che magari c'è più gente. Perché se abbiamo lobby plat di quattro conviene fare tanti punti. Lui sembra molto forte. Mmmh... Dai. Potrebbe promettere bene. Abbiamo un team solo. E hanno 20 i geballisti questi qua che ci contendono, eh. Però aspetta. Due team. Tre team. Tantissimi, oh! Ma dove cazzo hai visto un solo team? No, no, infatti, infatti. Eh. Io prendo ste casse qua, prendi quelle case. No, non ho detto che c'era un solo team. Ho detto che ho visto un team. Un team che ci contando. Ho due rampage. E va. Però arrivo. Eh, fightano un bel po'. Ma ti pare, zioca. Ma di mozza?! No, aspetta. Ho sentito male. 76 al ballistico. Granata termite lanciata! Ha finito, quindi? Non lo so. Io ho fatto... No, no, che ha finito. No. Ora. Restando. Eh, questo deve arrivare subito, però, zioca. Io vado dalla finestrella. No, non ha restato. Non c'era, non ho caso. Però sono arrivati altri. Preso il ballistico full. Sono arrivati altro team, altro team. Altro team, altro team. One, uno dell'altro team. Ma il mio ballistico? Ce l'hai la di fianco, mi sa. Non ti viene restato? Stanno salendo? Uno è blu e qualcuno è bianco dell'altro team. Eh, ho lasciato one shot one. Lui ha fatto zero danni, però, eh. È morto facendo zero qui, lì, zio porco. Come si fa a giocare così? Sparato lì, tutti i full erano. Da questa parte. Grazie alle di a te. Boh, ci leviamo? Sì, come via. No, beh. Boh, io ti giuro, no. Non so. Andiamo da questa parte. Eh, andiamo da questa parte, fra. Eh, zio cane, c'è un pull team addosso. Anzi, si è fatto scopare. Zio cane. Io, quando lui è morto, ho sparato subito. Su quelli che aveva addosso. Eh, tutti e tre scildati. Sì, ne aveva craccato neanche uno. Cazzo, eh. Oh, il respawn portatile, se troviamo il crafting quanto manca il master. Treee. Ah, tutto qua. Parecchio. Il doppio di quello che mancava prima. Minchia. Che palle, però. Cioè, avessi fatto qualcosa in quel fight? Lì, zio cane, almeno uno me lo noccavo. Poi stavamo due v due. Invece... Respawnalo subito, eh. Sì. Sì. Se vuoi torrare un freddo, invece worldon. Voi si vuole un flat freddo. Su freddo, c'è l'ho freight! Un freddo. 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 Ah, che sbatta, c'è uscirsene con un punto da quello start lì, contro i team. Ah, almeno. Tu, io, partecipazione. Se l'hai da uscire con vò 4-5 punti... Qui ci stanno spartessi, dividiamoceli. E se prendo questo divento viola. Quella col 30-30. Ah. Io comunque si divento viola. Almeno. Ma dov'è che ci ha responato quello dietro all'angolo? Sì. Pigeon troppo reno loot. Loot... Quasi mio, niente. Boh, devo cercare un threat time almeno. Posso giocare col 30, grazie. Che c'è nel droffo? Pk. Ok. E magari... Becchi... No. No? Allora, brutta. E questi che girano fatti? Puttame un threat line, Dio caro. Mi sembra di sentire... No. Qua a destra è lootato. Boh, la capsula la vado a prendere, ma... Non è che serva tanto. Ah. Ah, sì, subito. Lo chasano, lo chasano. Più un team a sinistra col 30-30 che ci spara. Sono io. Ah. Bravo. Salgono gli altri. Ma io non ci sono. No, 0-8. Eh, ma... 73? 39? Eh, ma non l'hai, frenzioca. Mi ha pushato un altro team. Beh, ma io son morto. A me hanno pushato questi, si sono allargati su di me. Quasi meglio, guarda. Ah, penso che... Perché al 30-30 in tutto il loot? Ma vabbè. Boh. Qua era stato... Ciao, cicca. Qua era stato anche bravo, lui aveva fatto anche il knock. Peccato. Qua il suo l'aveva fatto. Dove riesce a costare lo sinistro? Sì. Minchia. È che volevo avvicinarmi che stanno fightando... Però sì. Let's go. No, ma... No, 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 no. No, no, no. Raggiunge la capsula assistenza. Non ti arreddo mai. Ricordati. Vabbè, come secondaria cos'hai? Eh, ora, bocca... Eh, vabbè, minchia! Eh, nella quale a distanza non potevo fare un cazzo. Eh, vabbè. Non stammirino qua. Qui c'è un calcio per cecchino. Livello 3. Ah, io pure sto senza mirino. Sì, è un team che deve entrare. A sopra. Un hock, forse. Ma qualcuno che si buttasse sotto. Ah, no, ma gli altri sono sotto. Caricatore esteso per cecchino qui. Livello 3. Vabbè, ho doppio caricatore. Siamo in due, sì. Sono stra-pushati qua su. E prendo la ziplane. Sì. Replicatore in arrivo. Sono stati interpartati. Qua sopra. Ah, sta, io non lo vedo. È ancora lì? Sì, c'è gente qui, li vedo. Sono scesi. Chiudiato. Sano di noi. Granate zero. Ah, no. Metà delle squadre è fuori gioco. Ma non mi venda. Eh, lui ha pick però, vai. Aspetta. Uh, loba è andata via, aspetta. Loba è andata via col bracciale. Nemico qualità. Ah, ma era solo loba. Cazzo, era in solo. Ma va, fancù. Eh, loba è andata via col bracciale, ma loba stava in solo. Sì, o cazzo. Poi arriva strano lì basse così. Che vedevo un'esca di mira, c'è. Pensavo... Eh, appunto, sì. C'è... C'è, di tutto il fight ne è rimasto uno. Qua fight, no. Stavamo lootando, eh, se sono. Beh, se muore di safe, rido. 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 Nuovo leader uccisioni. Cosa avrà fatto? Sto posizionando uno scudo termico. Porco di... Ridovrò un piangere. Rilascio drone di guarigione. Quante batterie hai? Cinque. Stanno faiutando al punto io voglio prendere qualche punto perché Zio Khan abbiamo zero. Uno. Ma dammi una batterie. Qua fight, no. Qua dentro pure. Oh, dietro di noi. Alla casa. Ma anche più. Alla casa craccato. Armor. Blu. L'avrei hit. Qua attacco a bordo safe proprio. Sì, sì, decisamente dobbiamo prendere questi. Di dietro. Ah. Sì, l'ho visto. Aspetta, non spararli, non spararli, non spararli. Eh, mi sparano già. Non è uno. Ah. Lo vedi in open, in open? Eh... È red. Craccata la praticamente crack? Eh, l'ho craccata, sì. Eh, la rai ce n'è ancora qui. Sì, ma... Non lo so. Ma si sono messi dietro o sono andati avanti? Ancora lì, ancora lì dietro. Balunano. Rompiglielo, 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 rompiglielo. Ma lo realizzeriamo. Lo sto rompendo io ora, però. Vanno da destra, hanno feicato. Qua si cracklarai, friend. Ma sono andati tutti? Ciao, Flavio. Sì, sì, sono due. Ah, ma minchia. Uno di vita la... La... La cacata. La cacata è più a sinistra, guardala. Sì, sì. È più a sinistra. È da lì, dove si è. 63 viola. Hanno l'ightlay. Però hanno anche la safe. E il team che gli spara non è troppo rischioso pusharli. Non lo resta, non lo resta. Questo qua va a terra adesso. Ah, io ho tanta leggera. No! No, l'hanno filata di nido. Attenzione. Guarda se abbiamo rotto dietro. Eh, spero. Ce l'hanno rubata con la nido, davvero. O volete rimanere lì? No, io rimarrei qui. Ma non è questo, orato, no? Boh. No, no, no. Porco dia, slam loco. È che a breve non posso più sparare. Io mi metterò in sta montagna, quasi. Sì, sì. Questi di Mlock mi stanno stompando. Oh, li han beccati, li han beccati. Hanno un team che gli spara. Bravo. Oh, l'ho preso un assist, te l'avrei. Io no. Impossibile colpire di tributi. Allarga, allarga, allarga. Ti allarga, ti allarga. L'hanno preso. Eh, ma sì, ma l'altro team. Uno è red, uno è viola. Colpito con lo è red. C'è stato l'ho red. Quasi crack uno, viola. Buono, l'ho preso. Lo push o no, lo push o no? Lo resta con life. Lo resta con life. Life è red. Oddio, che porco. Eh, non ho più ammo. Terminato le ammo. Push o push o il rato. Ok. Avevo la vita. Confermalo. Non riesco, non riesco. Vabbè. Mamma mia. Ma, peccato. No, no, eh, ho finte colpi. Ho finte colpi di carabina. Altrimenti riuscivo a confermare il triplo che stava in un bel stato. Eh, minchia. Peccato. Cioè, l'avevamo il knock. Però resti la, i flain. Zioca. Vabbè, miglior random finora. A mani bassissime. Vabbè, era una lobby un po' così, eh. Eh, sì, sì, sì. Fatti... Avrò fatto un più 80, almeno un game recuperato. Penso di sì. Sì, pronti a riperderlo adesso. Pronti a perderlo subito, zio porco. Da più 62 abbiamo fatto... No, no, aspetta, non è vero. Perché abbiamo preso la top 2, poi. Più 125, eh, la... Quasi due game recuperati, dai. Uno e mezzo. Eh, let's go, skill, let's go! Edo non mi ha messo nella tier list dei boomer. Watson. Si sono 12, si sono 17. Fred Prevade. Eccolo qua. Vabbè, dai, abbiamo capito che ogni 3-80 ci dà un game... In cui si possono fare dei punti. Il problema è che 3-80 fanno meno 2-40. Ah, bronzatissima. Quindi non è molto sto anche essa. 16k su Watson, coraggioso. Pure giocare Watson in ranked è coraggioso. Un bot. Sì. Master Season 12, Master Season 17. 16k su Watson. Un'altra cosa. Perché sta andando da loro con... Ok. Ah, lo sai mid, ci sta! Pensavo stessi andando da loro perché aveva preso il carretto ma poi è sceso. Aoooooh! Un... aoooooh! Aoooooh! Spacco zio! Vediamo altro. Qui c'è un caricatore leggero esteso! Qui c'è lui! Ah, io mi avvicino a lui! Sono già andati a prendere i punti! Stava frescanato! Sì! Incolpibile! Incolpibile! Gli hanno preso i punti? Sì, sì, sì! Oh, che palle! Ma penso che si leveranno anche... Non lo so... Puggero! Questi da dietro però è da campo di ricerca, male! Che? Ci hanno scannati! No! Sì! Ho fatto la save! Ah! Eeeh... boh... Sono un hit su 40 colpi! Io sto a un hit su 40 colpi di triple take! Mi sto veramente divertendo! Adesso c'è la capsula assistenza! Potrei provarci! Ma? Ma lui sta avvicinato un botto! Il nostro si era avvicinato un casino! Vabbè, bene! Vabbè, io posso frencare come al solito! Forse si levano adesso per davvero! Sì, sì, sì! Dove, dove? Pingameli, pingameli! Eh, vanno verso il balloon! Sono qua! Li ho visti! Eh, io da qua non li colpirò mai! It's useless! Un'altra lei! Lit da 102 è stata molto bella, però! Almeno quella! Eh, sarà quello che avevo colpito io che si è dovuto fullare! 102! Beh, anch'io prima 102! Preciso! Hanno preso tutti il balloon, quindi! No, no! Non ci credo! Uno di vita! Sul mio cadavere! Mi fa! Godo! Gli altri hanno suonati lontanissime! Non si sono avvicinati! Che culo che questo non ha preso il balloon, minchia! Stanno arrivando! Penso siano loro, non lo so! Che come no? Altro team! No, altro team! Scuti amplificati! Successi assicurati! Ricarico di scuti! Secondi! Uno è dietro la mocchina vicino! 143! Uno ti sale? No! 23 flash a quello che ha pusciato vicino! 23 flash a quello che ha pusciato vicino! Fesi due! Fesi due! Oh si! Vabbè è una partecipazione! Va bene il triple take, zeocamback un hit su dieci, però vabbè. Sarebbe da togliere. Dove ero cato là? Sotto al Pontos. Sotto al Pontos? Ho zero batteria. Sotto al Pontos? Sei matto? Stai scherzandos? Batteri ne ho sei. Tiro troppo al culo. Ne hai zero hai detto? Si fiora due. Due, quattro, no. Ah, un team davanti. E' morto, lui è morto. E' morto, 100-100. Cioè non ha modo di arrivare da noi e c'è il full team là. E' il bello un tu, poi prendo. Vabbè, no, ma si fa bene lui. Insomma, no. Che buona merda qui. Non molto. Appena loro decidono che lui è morto, mi sa che lui è morto. Scudi nemici distrutti. Ricarico gli scudi. Un secondo. Ricarico. C'è un avversario laggiù. Nemico in vista. Lo scudo di quel nemico. Sono stata colpita. Ah, che peccato. Ricarico. Mink, in tutto questo se avessi preso un lombo invece del triple take zk avrei preso 20 knock. Lo vorrei balunare. Si capisce di tornare. Eh, sono lì che mira. Sì, ma... Loro hanno zippato via. Allora metti il balun, dai. Quassù, quassù però. Ehi, lui? Eh, arriverà oggi. Eh, ma lo devo aspettare se no... Vai, vai. Siamo fuori dalla bella. Robby del cazzo, comunque. Eh? Robby del cazzo, penso tu l'abbia visto. Sì, però i campioni sono pre-made Pred. Ah, è vero. Non facciamoci cogliere di sorpresa. Eh. Possiamo piccare questo ciocchio. Stavano con triple take a sparare. Capsula assistenza in arrivo. Capsula assistenza in arrivo. Capsula assistenza in arrivo. Speriamo che non siano loro. No, non sono loro perché i campioni erano tre anonimi. Nooo. Eh dai! Ma potevo aspettare un attimo. Eh appunto. Solo che io l'ho detto veramente triple take ziokan. Non l'avevo hitato. Eh neanch'io, neanch'io. Ma triple take che non prendo un hit, c'è questo problema. Robby ha abbracciato via. Uno è ancora qua, mi sa. Entro da sotto. Non, non. torno a collocamento carriera! Noi, aiutiò! Ammi! Ammo! Ammi ho buttato le ulti addirittura. Beh! Ora ci ho Canawy. Mi so junkie. Ecco! Non, perfetto! 11 team ancora, what? E a girare per dover girare la roba. Sì, sì. Secondo me la becchiamo anche. Però il team campione mi fa paura. Niente, sto odiando il triple tix. Un metro all'anello e un minuto di tempo. Qui c'è una cella a scudo. Ah, credo sia comprata lì. No, magari sotto al punto. Vabbè, non è neanche safe sotto al ponte, dai, no. Sopra al ponte. C'è gente da me, sì. Ma è uno solo? Mi sento uno solo. Le ho fatto un bel po'. Distrutta. Oddio. Il re del triple tix. Eh, mi dispiace. Prima hit che prendo. Cioè... Unica... Prima volta nella partita che colpisco alla prima hit di triple take. Unlucky per te. Le ho missate tutte, zio K. Tutte le ho missate. Ho tre partecipazioni. A sinistra penso siano i pad. Io ho due partecipazioni. Quindi ne hai una in più di me. Qua c'è gente a questa casa. Un paio di rats. Armor Red. Quelli lì Armor Red. Ma quanti ne hai visto? Eh, io ho visto un path. Però se è Armor Red immagino che non c'è nessuno. L è arrivato, è arrivato lì. Sono tre, sono tre. Fightano. Fightano sotto al Pontos. Lì, 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 lì. Ah, lì. Sì. Sì, anche... Uno è sotto al Pontos. Sto restando sotto al Pontos. Dai, salirai ma... Penso che salirà. Ma noi abbiamo la... Vabbè, vogliamo scendere da lì davvero. Zip, zip, occhio, zip. Eh... Ah, Balloon. Forse se ne vanno. Stanno restando anche sopra al Pontos. Sì, ma ci hanno... Ci hanno rubato il top. Lo dovevano tenere. Eh, lui ormai era andato. Sì, ma ci hanno preso... È il top migliore di tutta la mappa. Ce l'hanno rubato, dai. Che cazzata abbiamo fatto, secondo me. Sì, ma è un altro team. Sì, lo so, lo so. L'hanno fatto due spawn, infatti. Sì, lo so. Io dico solo che secondo me... Ce ne pentiremo. Anche perché poi ci sono arrivati full lì. Cioè, c'è arrivato... Scusa, c'è arrivato un path dritto per dritto con la ziplane. Avevamo anche la frichilla restando lì sopra. C'è il team alla casa, vogliamo loro che devono entrare, no? Sono qua che lutano con l'oba. No, che fa, che fa, che fa. Che fa. No. Vabbè, mettiti sopra, bravo. Ho preso quello dentro. No, l'altro team... Vabbè. Non mi son preso sto punto, ma rischiavo di morirci. Ci pushano. Ma dai, davvero. Ricarico il... E' unゾ. Mi bordo, perfetto. Ma dai, una nuova. Non so, ma dai. Ti porto da un via. Sì, sì. Io sono safe. È buono, buono. Almeno top 5, io aspetto qua è almeno top 5. Boh, il nostro ha fatto Una cazzata a venire qua Guarda che safe avevamo là sopra quella casa La zona migliore di tutta la Eh, ma non hai fatto una cazzata Eh? Perché eri da solo, comunque saremmo stati in due Ci avrebbero pushati No, intendo, lui ha fatto una cazzata andare per primo Poi lì sopra ci è arrivato pure il pad con la ziplane E già lo stompavamo full sulla ziplane lì sopra C'avevamo anche le free kill L'avevamo C'è, cazzo adesso dobbiamo accontentarci Di forse una top 5 se tutto va bene Dai 36 secondi, eh Io posso salire in qualche modo? Boh, da destra Come? Eh, non arrampicandoti Eh, da destra qua, sì Quando parto? Vabbè, ma tanto Prima che parta la safe Perché devi andare più dritto 5 meno di 10 Va, io iniziere già Penso che stanno qua No, perché devi andare molto più avanti Cioè, se mori, ah, me ne hai fatto la top Nooo Sanno di te Che pa... Hai visto di quanto non stavo in safe lì? Voi A parte che mi avrebbero... Vabbè, top 54 Ci sta, top 30 Guarda quanta vita ho lasciato a rev, zioca 224 224 Gli ho fatti Ho tirati, erano gli altri 222 Ah, va, 3 di vita Gli avrei almeno grifato il game Invece 3 di vita Let's go Tuttavia, il plug Gli avrei Anzi Anzi Gli avrei portare la giuce Gli avrei Pogliazz Gli avrei Gli avrei Gli avrei Gli avrei Gli avrei Gli avrei Ma G, 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 eh, compleanno dello zio. Dello zio, non della zia. Zio. Non vorrei dire, ma secondo me in duo perdete solo di più. Allora, non vorrei dire, ma in duo siamo in positivo. In trio con G shadow siamo andati in negativo di 300. In duo, al momento, siamo in positivo. Quindi, oserei dire, oserei dire, suca. Peccato sta partita più 80 che poteva essere più 200, dio povero. Bastava anche una top 3. È quello di prima, è Pred. No, non è Pred. Cazzo. Questo è il tuo campione. Lucatoni! Pepperoni! Luca, sei per me? Bravo, che passa. Atterriamo lì. A meno che non abbiate un'idea. Eh, te lo passo. Il bulldog. Ugo. Bella, dato. Contro di noi il gol d'Ugo era stato molto bravo. Vediamo in team. Cosa combina? Sembra avere le mani. Eh, sì. No, mica tanto. Ma abbiamo un team anche qua. Eh. No, ha preso lui l'arma. Zioca, ma da dove è spuntato quest'altro però? Cioè, l'altro team mai visto. Pure la nave segnava solo l'altro. No. Eh, non stato in mezzo di prima. Ti timano. No! Ci vuole un miracolo che il campo di ricerca siano l'ultimo, mi sa. Loro sono stati terpartati. Eh, appunto, io non morirò però. No. Ma sai che sono non restabile? Oh, Dio, non proviamo. Boss, va bene. Eh. Ah, c'è Dance for Fun qui. Ah. Bello. Tantisecondi ho? Perché sono restabile. 35. Quindi arrivo. E poi lo possiamo respawnare qua. Però hanno finito. Ho paura che faccio per quello. Ho paura, ti aiuto io. Bo, sicuro lo crafto lì. No, è lootato, è lootato, è lootato. Oh, l'ho aperti io, quella al centro? No? Aspetta. Ma che c'è il cogliorito che non lo sai? Madonna. No, l'ho lootato io, quelli l'ho lootato io. Dio buono, ho preso un colpo. I dorsali alla fine erano rotti, sì, 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 lì devo aggiustare. C'è l'accompacciamento che funziona molto male. E domani i miei miei pezzi. Vabbè, non lo respawniamo qua, vero? Così. No. Ha il shock, quello piccolino, dai. Quello sopra. Vabbè, che là ci pushiamo uguale tanto. Sì. Maglio, però. Io sto di ramp e giocare senza... Sì. Ora mi fermo davanti al respawni e gli scrivo sei sorri. Vabbè. Andiamo qua dentro. Sì, ma sto cazzo di Zens4Fan ce lo dobbiamo beccare sempre. Gli ho scritto io. Hanno ballonato, eh, quelli di Zens4Fan. Abbiamo il ballon qua, noi. Ha ballonato il Zens4Fan. Ma su di noi? Eh, balloneranno su di noi. Emo Shiro? In due, però, me li vuoi. Oh, magari non sono più venuti alla fine. Ma no, infatti, eh. Il mio fucile d'assalto assalterebbe meglio con... Dove li ha pingati? Ah, campo di ricerca. Campo di ricerca. Beh... Puoi pusharli. Non sa che Zens4Fan. Andiamo con lui, se non rompe il cazzo. Non sa che usa lo Zens4Fan per divertimento. Il mio fucile d'assalto assalterebbe meglio con un'ottima decente. Dove cazzo sono? Spariti? Ah, sì, Edo ci sta. Zens4Fan è un pippone che... Però... Cronussato e Dossa le lobby. Però ha anche dei difetti. Effettivamente sì, dovrei ringraziare di beccarlo, assolutamente. Comunque veramente... Cioè, penso che l'abbiamo beccato almeno una ventina di volte in totale. È veramente incredibile. Questi due giorni sono più chill. Ma perché da quello che ho capito hanno anche fatto tanti bann. Micchia, c'è il ballon con due ziplane. Sto leggendo le feed, tutti anonimi. Poi, come vedete, non li conosce un cazzo di nessuno. Comunque questo qua c'è la skin sull'avok. Sempre quella lì. Dopo lì la devo cambiare. No, no, no... Che facciamo? Niente paura, non moriremo arrostiti. Siamo già nel prossimo anello. Baka waka al team Pred. Quale? Questo lo sta rascrivendo. Ci serve un terzo nono. Sta andando bene con i random per ora. A parte le prime tre partite... Siamo arrivati a metà sani e salvi! Non ce l'avrei mai fatta senza di voi! Ma... Si è svegliato! Vabbè magari gli si era scollegato il pad... Andiamo a Skyhook! Tanto sta partita di merda a sto punto proviamo a tenere la top! Cioè... Stiamo a zero punti! Ah perché abbiamo la top? Si! Due! Cioè stiamo... Top nove con le bianche, zero punti! Penso possiamo fare tante robe utili! Anche perché c'è una scena a tirata di... ...la campo di chart! ... Beh è gallascia! Minchia! No, non è nuovo record, Saimor 28! Una volta hanno fatto la lobby... ...mi sembra tipo da... ...full! Cioè una volta l'hanno fullata una lobby! Se non ricordo male! Volevano poi boh! Si si! Ma mi sembra l'hanno fatto! Avevano anche il discord! Poi non so se l'abbiano fatto! Credo di si però! Però era ancora ai tempi del respawn farming! Era secoli fa! Sì, sono volati lì! In bocca a me! Forse si è... È tornato indietro lui! È tornato indietro! Sono tutti e tre qui ora! Sì sì sì! Ah non ho caduto il... Ho fatto il sonno! È il team campione! E chi sparava a chi? È un blu, eh? È il team B era... Ah! Cioè ci avviciniamo! Perdiamo... In questa bellissima posizione arriviamo! Ho paura che mi pushino! Arrivo io da voi boh! Boh! Cioè dipende! Vogliamo pushare loro o vogliamo tenere la safe qua! Ti stavano pushando quindi ottimo timing! Eh non posso! Da dove ti sparano? Da dove ti sparano? Blu anche loro! Blu anche loro! Chi sparava a chi? Bene! La lobby full era i tempi del respawn farming! Quindi a turno... Facevano con i respawn beacon! Prendevano tutti! E ricarico gli scudi! Un secondo! Nooo! Vabbè dai sì, teniamo qua! Fanculo te... Continuiamo sta cazzo di streak! Che almeno... Manteniamo la streak di top 5! Cosa migliore che puoi uscire fuori da sta partita! Six man! Ma va no! Replicatore in discesa! Demico individuato fuori dalla nostra ordine! Oh su di noi su di noi! Lifti lift! Ok! Magari vogliamo solo convivere sotto! Beh! O magari ci salgono da di lato! Eh il fatto è qua sotto! Da qua! Ma sono ancora sotto di noi questi? Mh... Armor Red? Eh non lo so! Secondo me no erano questi! Non è questo Patkarampinato! Io non sto guardando! Eh a me sembra che sia questo Patkarampinato! Un momento! Sto creando qualcosa! Io non lo farò! Ehm... Non ho... Sto chiesto prima le cellette e non ho sentito risposta! Cellette ne ho 3! Ah... Io 2! Oh no! 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 Que'l team è full red! E vorrei fare e prender' il crab! Eh io... E io vado a... A frappare i colpi e prender' il crab! C'è il team di dentro sempre! è che adesso le top non scenderanno perché siamo tutti splittati c'è gente sul crab il suo destino è già segnato a meno che sono tutti splittati team però sono quasi sono tutti fruttino si no ma intendo sì ma non c'è una casa c'è ecco lì del crema per dovremmo guardare potrebbero volerci rompere i coglioni e ricordati che noi siamo un sciottabile tutti e tre easy ma infatti sto da questo lato perché il calabere dovrebbe essere dietro oh mi hanno busciato mi ha scoutato a caso ne ho visto uno là sopra sono loro col traverso occhio e abbiamo quelli sotto tutti no 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 era loro team guarda la zipline stanno girando a destra sono reddo penso vanno largissimi si vabbè ci sta vabbè non avrò fra ulti quando sarà ha finito i colpi di rampage let's go c'ho un'arma in meno eh se vuoi te li do ma pochi eh no vabbè no no tieni tieni però non stare via a sparare 33 volte eh no non vedo solo se ci sono due hit free eh qua si buscano lì eh ne anch'io però almeno la stavo per il tor una partecipazione se lo conferma let's go io la ulti ce l'ho tra poco dai Ho detto, beh, sarà un fai. Eh dai. Andiamo. Hanno finito però. Ne ho preso uno solo. Anch'io. L'hanno pushato. Sopra la casa. Dobbiamo andare lì. Sì. Ma è uscito? Quello che era qua. No, no, poveri due. Ah, qua dentro o non so? C'era Raven anche che avevo distrutto. No, che cosa gioca sotto. Almeno da qui possiamo uscire. No, c'è gente lì. Niente da accattare qui. Venite da questa parte. Vieni qui sotto, non puoi stare lì. Vabbè, senti. Figliamo la top 2 almeno. Poi ho i termici io. Anche tu. quelli hanno responato. zio porco è appunto ma questi dove stanno questi hanno un pizzico di tetto in sé si hanno e che mi sa che sono sul tetto infatti che palle tutti non so come faremo non so come faremo con quelli sul tetto e ma allora non prenderemo neanche la top 2 cioè impossibile dovremmo un lift su quelli sul tetto che magari si spaventano e scendono lift sua sul tetto ultimia 10 secondi l'anello è vicino lo farà a misa di no termico io e andiamo ma si stanno mossi si vorrei un lift suo anche solo per ruotare un eh ma serviva un liftino su lì eh ma stiamo fai tanto team diversi pure si pushano forse si pushano forse no sì 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 eh peccato era da buttarsi full su quelli a sinistra che lui però è andato a destra non so più che altro qua se ci buttavamo a sinistra secondo me appunto con un lift lì cioè almeno con lift schippavamo ci buttavamo full su quelli a sinistra che lo senti già che l'abbiamo tenuta più 50 55 58 ma gli europei quando iniziano sabato l'italia ma iniziano domani 58 dio caro vabbè meglio 58 rispetto rispetto a meno 80 no io 55 perché no 55 entrambi non mi ricordavo semplicemente ah ok ok e pensavo avessi riguardato secondo te quanto abbiamo recuperato? poco saremo sui 600 no secondo me siamo sui 600 no neanche minchia no vorrebbe dire che ne mancano 300 no no way eravamo a 450 prima di livare di shadow già è tanto se abbiamo recuperato io ero a 396 io ero a 450 secondo me già è tanto se siamo a 450 adesso perché abbiamo perso i punti con i random poi adesso li abbiamo recuperati un pochetto però secondo me siamo tornati più o meno sui 450 ora forse poco di più proprio forse 500 e comunque eh lori unlucky niente conduit per te mi spiace porco dio 11k su fuse niente campioni così non vediamo neanche come ve la passate aspetta che sono curioso di una cosa sai che mi sa che è il primo fuse in italia questo è italiano? si si e ma perché mi ricordo dalla leaderboard è il primo prima di aledani giglio devo fare lo screenshot e mandarlo a dalle danni giglio allora sto giocando col suo rivale è coraggioso sicuramente vabbè in realtà qualche team lo usa anche nelle LGS è perché gli hanno dato il perk dello Scandellanello ah boia strabello allora cioè no strabello no vabbè beh di sicuro meglio rispetto a Watson di prima visto che Watson tra l'altro l'anello lo poteva scannare non mi sembra l'abbia fatto così a memoria ma c'è avevamo Watson prima e non ha scannato zio porco mai scannato madonna che è rimasto vabbè non che ci servisse beh oddio magari se avesse visto anche lui che la safe sarebbe chiusa lì su quella casa ci sarebbe rimasto invece di andare là davanti credo avrebbe avuto un po' di buon senso l'anello è lontano e mancano... basta vuol fare un game di Spitfire nooo easy-80 perché? Spitfire bravo eh non lo potete prendere dai hai lo zaino viola ti prego ma che cosa? dai hai lo zaino viola ti prego si lo posso prendere lo posso mettere nella mia arma perché sono senza chi li trovo god l'ho trovato hai l'avoc per caso? avoc e il carabino un po' il turbo non lo so cioè boh non... vabbè sì se lo molli lo prende bella Ligiglio guarda con chi giochiamo con L'Orea italiano 11k su fuse forse questo non c'è nel tracker allora ma mi sa che questo non sta nel tracker così tanto paura anche se lo sa e niente momento in cui Ligiglio scopre di essere terzo e non più secondo io ci andrei da sticogliato magari vengono loro per i punti sono i live o magari li hanno già presi momento in cui Ligiglio scopre di essere terzo ahiaia vabbè immagino che non ti interessi scherzo io ma aspettiamo un attimo forse arrivano a prendere i punti difendiamo quest'area non rovinate tutti ma dov'è che cioè hanno risponato a arrivano forse non farti vedere non farti vedere no 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 non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto sento dei pagliacci laggiù sì ma lui lo vedono così però vabbè ma secondo me li hanno presi prima potrebbe essere è uscito qua ora va anche lui a craftare bella pad aspetta 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 qua sul tetto oh arriva aspetta vai 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 oh madonna le lifeline col doppio tempo di marlo e le vengo io le avevo fatto 80 loro che la salvo ma un pazzo se lo ha intrappolato gli regalo la sub cavolo mannaggia sono andati a sinistra o non dentro per dindirindina sarebbero da prendere non si fotte con i minfuse audio attaccati a me ah da me bastardo fosse arrivato un attimo indietro l'avrei preso quindi non si è mai curata da quando l'aveva accraccata lui Alicilio un voto all'ulti di lore devastante cazzo l'hai intrappolato dall'alba boia cane bravo l'ore molto carino bravo l'ore bella ulti lore mamma mia veramente no no molto ulti ulti molto bella ci sono volati a destra più avanti in verità poco però poco più avanti di qua ai punti eh si avranno preso i punti e ora stanno qua ci stiamo mettendo un po' in mezzo però forse è meglio levarsi potremmo fare il giro qua dietro tipo questo giro qua minchia ce la facciamo un minuto e quaranta si a voglia vuto meglio peggio di oggi con G per ora meglio non di troppo però c'è in verità le prime tre in 2Q sono andate in a merda merda si si vuole fare col giro lì era meglio che andavi a piedi ce la fai si? minchia con un caricatore mi hanno fatto 20 danni anche a mano un lift di ORI qua davanti un lift di ORI qua davanti un minuto alla chiusura dell'anello mannaggia però valuno oltre grotto Sì, ma c'era gente molto più vicina Vabbè, dici che non sono andati giù? Eh, sì Ah, questo loro è il primo Ecco, sì Mi serve un calcio percepito Cerco un'ottica per un'arma da tiratore scelto, gente Mi serve un opap Ricarica potenziata Dai che top 8 Anche qua dobbiamo fare la top 5 Teniamo la stricc Andiamo avanti di più 80 Dio caro, però vabbè Ma lui Eh, ora è tosto E poi entriamo per di qua però, è brutto Eh, lo so È veramente brutto Eh, se no potremmo entrare qui Però magari anche lì c'è gente alla fine Ci hanno respawnato davanti Andiamo da destra A me basta fare la top 5 Fanculo Andiamo avanti di più 30, più 40 E let's go Piano piano Chi va piano Eh, vabbè Beh Cazzo, da me qua sotto Eh, i cazzi allora Vedi quello lì, quello lì, quello lì Sta curandolo, vedi? 3, 2, 1, vai Dal ponte anche però Potremmo aspettare un bel po' fuori safe E entrare larghissimi tipo anche Perché ci sparano Eh, quelli al ponte Nemici dal ponte A destra com'è C'è gente qua, tipo Fai te, no, sì E anche dal ponte però Arrivano Io aspetto un attimo qua No, no, che è qui adesso Eh sì, ma arriva un full team dal ponte S'ha per partarli Ah, sta arrivando Sì Arrivano da noi quelli del ponte Noi siamo morti Eh, andiamo pure con l'auto Cosa cosa devo fare? Eh, minchia, hanno lasciato i one shot due Che palle Questi guadio Ciao, pisello in pastella Madonna, quanto rosico Mmm, le hai visti Ma si può? Secondo te perché lo faccio? Rattupus Madonna Eh, ma entrano proprio qua No Oddio Tra tutti devono avere blood Zio porco Tra tutti devono avere blood È finita, se mi scannano Ma loro tipo tornarsene nella loro casa bella in safe Invece di cagare il cazzo a noi Sei safe Eh, ma il Brody mi spaventa Più che altro un team si mette qua dentro di sicuro Che poi Rattodono ci sta anche Un casino Craft pazzo Sì, vabbè L'ora Buongiorno Rattodono ci sta anche Perché è tipo Master Ratto Non girarti troppo però Sì, peccato che Madonna Che sfiga Che sfiga che avevamo proprio il bordino là della macchina Se no È un pazzo Che craft e poi No, io ho pingato io Per sbaglio Guarda quello lì Quanto è palesa Ma va, ma va Mi prego Ma sì Mi prego Ok Più Dai, dai, dai Si può puntare più in alto Top 4 Vamonos Bella, Gabri Una pazza top 3 Non mi responare Dai, fate quelli che hanno responato Dai, dai, dai Anche quelli nel choke stanno messi male Perfetto Quelli nel choke non c'è nessuno Hanno pushato il respawn Un altro team E questi pushano quelli che hanno pushato il respawn Top 3 Lasco Audione Lobby No, non voglio tornare in lobby dopo Non voglio la sorpresa Bella killer Voglio la sorpresa Quando ho fatto il master L'ho fatto Ma sicuro non Cioè, sono lontano Ne mancano 200 No Ma no, no Mancheranno 200-300 punti Quindi non guardo quanti punti sto Fino a che non facciamo una partita Che è tipo win Con un casino di punti Così è inutile andare a guardare Manca troppo Tutti Ok Tutti ok Anche se 122 Se win Sì Buongiorno E poi Ma dai Si splittassero per cercarti Che magari te ne fai uno E lo confermi Secondo me dopo sta partita Stiamo a 600 Quindi proprio Manca un casino Sì Fight a pugni L'ultima volta Che ho visto un team Concedere un fight a pugni È stato in stagione 3 Tipo Non si fa più Effettivamente come cosa Cioè Non c'è più l'usanza Di quando uno resta 1v3 Chiede di fare a pugni E fanno a pugni Non l'ho mai più vista Come cosa Cioè Non mi è neanche capitato più Che i ratti me lo chiedessero Ultimamente si vanno a uccidere Fuori safe E basta Non capisco E via Facile 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 La confermina Buono così Secondo me sto a 600 punti Torniamo in lobby No 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 600 300 dal master Secondo me Ah no vabbè Te gioca e basta Sì ma infatti l'ho detto Anche perché non ha senso Secondo me 300 punti dal master Tipo Ecco mi si è spento il telefono Porco dio Ne abbiamo recuperati poche Abbiamo fatto 120 qua 100 prima 220 Forse 250 Forse 250 Contando che eravamo scesi a 400 Eravamo scesi a 350 Tu Eh Io ero sceso penso a D2 Non lo so Non l'ho visto L'avevi fatto il D2 o no? Scusa No no Io non l'ho visto Non lo so Non siamo ritornati in lobby E scusami lo vedi? Sei impartita in alto a destra 6 D2 Ah cazzo di ragione No no Non l'ho mai fatto No no Non l'ho mai fatto E tu eri a quanti punti meno di me? Centinaio No Ero 300 punti sotto Porco No vabbè Siamo in streak da 3 o da 4? Da 4 Voglia Sta partita tipo Quanto abbiamo fatto Scusa con la top 2 Ah io avevo Vabbè io non avevo Gli stessi punti tuoi Cioè prima che tu Killassi l'ultimo Eh prima che tu Killassi l'ultimo Avevo gli stessi tuoi Quindi Ho fatto 122 Ush Bella ulti Quella con cui hai preso L'horizon D'8 km Sì Vabbè comunque Siamo lì Buono Cereali o biscotti Cereali Io oggi Tutto storto Ho fatto colazione Le 12 E mezza Fatto colazione Le 12 e mezza Ma in verità ero sveglio Dalle 10 Ma ho giocato Due ore e mezza Brawl Stars E non avevo voglia Di fare colazione Poi ho pranzato All'una E ho fatto merenda Alle 3 Boh Io ho fatto colazione Due Cioè Sì Tutto storto Io in 3 ore Ho fatto 3 pasti Hanno tutti e 3 skin Con dettagli rossi Sì ho notato Il nostro teammate Invece Diamante 1 Paga clan Zen Speriamo ce l'abbia davvero Questa è una buona zona di atterraggio 120 di ping No io 48 Tu ce l'hai alto No no 140 150 80 Boh Che palle Che abbiamo la lobby preta adesso 100 110 120 130 140 150 150 80 60 Boh Vabbè Perché si è stato Boh Ho un ping di merda Comunque Non capisco 100 di nuovo 130 Porco No io ho 60 fisso Eh La mia connessione Questa Vanno Amico Ah ma vuoi vedere che Ma vaffanculo Cosa Eh perché avevo Avevo clipato Per vedere quanti punti avessi E mi stava scaricando la clip Su Su non so Non capisco dove Buon lutto di merda Godo punti da noi E anche da loro Ritornamenti extra da tutta parte Nuovo livello Bene Spero che i potenziali Mi faccia rampart Ma Questa è un caricatore Pesante e stese Livello 3 Home Ha un potenzialamento Nuovo di zecca Vedo il mio podcast Per saperne di più Copritemi Sto creando qualcosa ah ma forse l'ore nel tracker non compare perché c'ha il contatore ha il contatore vinto quindi non gliel'ha aggiornato se non l'ha mai cambiato perché col contatore vinto non ti aggiorna il tracker per aggiornare il tracker devi avere il contatore quello base di Apex che non capisco perché sta roba non hanno ancora messo i contatori vinto che ti contano nel tracker cioè i tipi del tracker non penso ci metterebbero tanto a fare una cosa simile mi ha usato un po' cazzo ma comparirà che lui aveva il contatore quello dell'evento lui non mi vede cioè io non lo vedo lui si è un blocco l'ho buono dio qui c'è un caricatore pesante e steso livello 1 eeeh vabbè buongiorno metti la canna ahhh che palle che finno hanno beccato il team al pontos al pontos ma stai scherzando un no che non è vero a vicenda a vicenda a vicenda si 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 eh ma siamo assai lontani hanno finito due noccati zio porco finito i due noccati stanno restando adesso ma sono dentro si si prima che si fullano andiamo dai proviamo viola a mia porta ci sto ci sto ci sto eee buf non so per dove andare togli metti la cam che cazzo quante volte la devo la lascerò oh oh si va flammato rev ah poca cuntiva regolini boh peccato io ho tirato la termite dalla mia porta ne ho colpito uno solo di termite tirato la ulti boh la ulti non ha colpito nessuno capisco capisco come la ulti lì dentro non abbia colpito nessuno devi togliere la camma eeeh togli rimetti togli rimetti togli è vero allora rimetti togli rimetti così così aia lootato lo faccio qui lo faccio qui o a guise qui qui e che se lo potrebbero aspettare buonanotte longbow emlock accessori finito ah ah no longbow l'uomo prossima stream non chiamarla live del master così facciamo il master ma va guarda che siamo messi bene di punti ora se teniamo sta cazzo di streak magari se teniamo sta streak siamo messi bene con i random ma infatti si nel chill secondo me siamo sui 600 punti con la streak 4 su 5 che è tanta roba c'è meglio meglio di come abbiamo startato perché abbiamo startato che avevamo streak 2 su 5 con 600 punti quindi io direi ottimo così l'importante è mantenere la streak l'unica cosa che conta e tanto male che vada si va avanti di più 30 sto creando qualcosa un minuto d'attenzione attenzione creazione in corso vediamo tra quanto mi esplode il pc tra molto poco caso di liberare un po' ottimo spero non pushino adesso perchè hai preso quella leggera che nemmeno usi? io? ah non erito non credo proprio visto che stava fk non vuole fare un'ambush eh magari chissai ciao marco ma non voglio comunque essere amica di ribo se sono trans quindi no mi sfrutterebbe mi sfrutterebbe povero io nemmeno da non trans da non trans si ma da trans no ve lo porto vi serve? l'ottica mi serve tantissimo qui c'è un caricatore eh la sto portando livello 2 abbiamo un nuovo livello ci si un ma giù c'è una capsula assistenza però stai non ti ringrazierò ma c'è ancora luccatoni mannaggia basta si imbusha qua dentro se la safe chiude qua imbushiamo frega un cazzo vabbè bella ci hanno scannato da 8 km mi chiamo 11 team controllo termico ma quella è la safe al massimo ma non c'è nella mappa cazzo dici scannato ogni volta ma senti il rumorino ma scusa se c'è quello non vuol dire che ci hanno scannati sei nella mappa quello cosa? io non vedo niente nella mappa eh io si invece zeocan ci avrai il gioco rotto è anche uscito scritto è uscito scritto a schermo c'è nella mappa eh no io non ho visto niente eh ma anche prima eh anche prima era così anche prima uguale ma sono di bag di marda ce l'ho pushata ce l'ho pushata vai via vai via vai via ce l'ho pushata anche da qua non hai un baluna? eh certo che ce l'hai si però dobbiamo sperare che si fai tra di loro per poterlo fare no? Vado qua dietro e lo metto C'era un team al craft C'era un team che ci usava Ma mettilo, mettilo Non lo fa mettere da nessuna parte, Zuford E dove andiamo? Boh Lo rompono Hanno respawnato lì da voi, eh Eh, lo so E sono stati anche pushati Eh, vieni qua, vieni qua che li andiamo al massimo Dai, ce li abbiamo dall'altro lato però Perché non si fa i danno quelli là? Da noi No, due team, due team, due team Senti, mi faccio killare qua così non ve li porto Perché butta molto male per me Dai, una top Ti prego Questi fightano Mi hanno pushato me Un vero audio, porco No, zio, porco Ok Tata Sì Ma sì, vai piano Se prendi due tics ti capito di poco Qui tipo Sì, sì, sì Purtroppo da Armo Mocca Più cinque Più cinque Let's go Cazzo che poi è più cinque con la stick da cinque Beh, se no Qua era Un minuto alla chiusura No Mmm, con la batteri No Io l'avrei fatto, io l'avrei fatto Sta anche ressando Eh, appunto, io l'avrei fatto per qua Minchia Due Due te No, e dovevi farlo, sei un coglione Ma Il phoenix con Duecento di vita Sì Infatti ho Sparato a merda Perché pensavo Ho visto il phoenix Zioca Sparato prima quello col phoenix Ti prendevi il punto sul pred È la top Eh, lo so, lo so Che palle Sì, chissà lui con quanta vita Si stava facendo la batteri Però È vero Vabbè, era stato appena restato Sì, sì Ah, lui dici, no? L'altro era stato appena restato col gold E si stava facendo il phoenix Ah, sì, sì Eh, peccato Minchia Ah, no, io non ero full Che peccato, allora È buono, ma Avevo paura che mai Cioè, alla fine Se fossero state Uno solo a terra E non due Minchia Se fosse stato Uno a terra E non due Ma poi il phoenix Con Con conduit pure Il phoenix Da appena restato con conduit Boh, comunque Tipo 170 Ah, perché È vero Eh, scusa Appena restata Più shield di conduit Zio porco Ci sta Ci aveva Tutto Lì quando ho visto Uno che faceva Battery E uno phoenix Avevo annusato La doppia di avok Purtroppo avevano Troppa vita Speravo di farmeli Tipo uno dietro l'altro Speravo Avessero poco a testa Purtroppo Come se servisse A qualcosa Cosa Per l'assenza Questo è il tuo campione Non ho idea Cicca Non ho idea Quanto manca Perché non stiamo più guardando Mentality Ieri ha snappato Sì, ha fatto Babbo Natale Babbo Mentality Secondo me Dobbiamo andarci A mettere in culo Ma perché ci sono Sempre così Tanti team Lizio Cioè Che non si Proviamo andare Nel posto brutto Eh, no Lutti Picentra Let's go Eh, no Cicca No, grazie Ma qui Va beh, prendi tu Offerta allettante Che cosa prendo io? C'è la prendo No, no No, ho trovato l'avoc C'è cazzo Mi roppo il cazzo Cioè Se becchiamo Il tour party Io Il loot ce l'ho L'anello è vicino E abbiamo ancora un minuto Per fare quello che ci pare Sono messo abbastanza bene Ti prego Becchiamo Sto cazzo Cioè Faitate Dateci Sto tour party Zio Cazzo Ciao Venti Eh, non Boh Non ho idea Ma non credo Cioè Da console Non avrebbe senso Se fanno qualcosa Al pad da pc Potrebbe essere Cioè Che piuttosto Se cazzo Capitati Eh, boh Non credo Eccoli No, ok Adesso Peccato Abbiamo fuori i punti vicini Un knock Bobby Una conferma Hanno finito No Non loro Non loro No? Eh, in teoria no Eh, minchia Ora sì Eh, parca puttana Sì, ma io per arrivare Devo fare un giro Della madonna Eh, ma non ha senso Siamo tre bianchi Versando adesso Eh, ma Questi sono due Due a terra Erano Ha restato Ora al secondo Eh, con l'iPhone Sono già Belli full Bianchi 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 ancora La mia porta La mia porta Però Dove Arrivò la tua porta E No Ma è stato What? Lei c'è lui Ma non lo È quello che doveva guardare lui E lui Guardava nessuno Lui Lui non guardava nessuno Cioè lui Scusa già La sua porta libera Non è entrato Ce ne stavano Uno alla porta mia Uno alla tua Uno alla sua Io ho preso Quello alla mia E lui Dalla sua porta Cioè la Bangalore Che è arrivata da me Ma lui non è entrato A prendere la Bangalore Da dietro Cioè appena ha visto La Bangalore Che arrivava verso di lui Già è verso di me Cazzo poteva andare Se la pigliava da dietro La faceva full Appena ha liberato la porta Zio porco Cioè Boh Ah no il pat Scusa Ma tu che avevi alla porta Allora io ho preso il tuo Ori E Lifeline Avevo due Hai preso la Lifeline E la Bangalore Eh Non lo so Ma che cazzo vuol dire Scusa Ma la 20 Tu hai preso la Lifeline E non era la porta Era Sì ho capito E scusami E Bangalore Horizon Scusa Beh Ah no Ah ma lui ha craccato Path Lui ha craccato Path Path Non c'è un path Non c'è un path Ciao 20 Eeeh Ci sto Eeeh No 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 Non c'è un path Non pacco Come ti ho detto l'altra volta Siamo in due Non pacco Continuo Anche perché Dovrebbero mancare poco Come Scusa path Hai detto la porta tua Stava Chi stava la porta tua E allora Ho capito E lui ha craccato il path Ancora con sto path Ma il tuo calcio è nel feed In alto a destra Zio porco Eeeh Allora Un altro team Uno di un altro team Che vuoi dire Ma erano Six Man Allora Ma Tu Clippa Se tu hai Ori Erano Six Man Avevano anche le skin gialle Che vuol dire Ori C'avevo Ori Sulla porta Ori e Lifeline E se avevi Ori Erano Six Man Allora Eh ma li stavo aspettando anche Non è che sono spunti Il path Ori, Bang e Lifeline E lui stava aspettando un altro Lui è entrato Ha craccato un path Eh Più o meno La vostra Mi fa scoprire vivo 32 Ecco il campione Volete vincere? Fatemi fuori Atterriamo lì A meno che Non abbiate un'idea migliore Atterriamo lì Madonna Se ora fa pochi danni Porco Diiici Boh comunque la cosa più grave È stata che appunto Io comunque ho preso il knock full Zio porco Quello che aveva lui Niente Cioè Ho preso il knock full Sul mio Cazzo ridi Sfatto anche te Ma che cazzo voglio? Sono l'unico che ha preso un knock E intanto ridi Eh Ma che cazzo droppa su di me Oh Coglio Lui sta andando via Va bene Mi ha rubato il loot Parco zio Cripto Un minuto alla chiusura dell'enno Ma Perché non mi correva? Mi ha scritto You need to learn How to shoot Sì sì Dio porco Madonna se fa meno danni di me Madonna Madonna Sto col turbante adesso Botte una sega Non ridere Non sei meglio di lui Se ridi Ridi Fai male Vabbè Che figlio di troia che sei Madonna Madonna Fai qualche cagata Te lo farò Va bene Va bene Ora devi giocare da dio E se fai qualche cagata Ti sfotto tutto il tempo Cazzo Pensavo di avere la ultima Ne stico uno Quasi Io sono qua e non arrivo Nel cilla ci pensa niente C'è gente ancora Io lo so Ne abbiamo preso tutti uno vero? Ne abbiamo preso uno Uno e uno Sì Mi preparo già la frase Sperando non faccio vedere Ok Cosa preparavo? E si ando Un momento Sto creato qualcosa Attenzione Creazione in corso Ricarico gli scusi Un secondo Uff Katara Best Cimelius Che Palle Il meno 80 Dell'ultima partita Di quanto erano il meno 80 La dopo 5 perso E anche Stavamo in streak da 5 Però è Probabilmente con questo meno 80 Abbiamo Tipo perso i punti Di 4 game Eh minchia Contando che il game prima Ne avevano fatti 5 Io caro Ma questa partita promette bene Mi ha tirato una laggata Eh mi sa che non promette più bene Non lo so Non lo so Perché i 120 Non li ho provati Eh ci speravi Che andasse a terra Ma stanno lutando col market Tu Qua Derastato Aveva 60 di vita Io non posso salire Uno di vita Revenant Il Revenant qua È scappato dal tunnel A 1 Eh ma anch'io Morirei sì? No Non so No 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 Non aveva uno Aveva tipo 30 Di solo però Preso Che culo Poretto Se era Se era imbusciato L'ho trovato Perché gli è finita L'ulti Ho sentito il rumore Cazzo Ah ma tu Non hai neanche preso il mio C'è non è quello che avevo C'è quello che avevo C'è scappato Devi vedere se Devi prendere un ballon Dal ballon Per favore Do cazzo lo prendo il ballon Dal market Top top Da me Cazzo lo subito Io sono siringa E anche io ho solo siringa Ora lo metto Faccio una siringa Lo metto E mi fullo Vado all'altro ballone No direttamente Sì E lui mi sa che Drone No non possiamo Entrare C'è un drone Di davanti a te Ma ce l'avrò messo Per guardarci Ecco appunto Sì ma Sì ma Due io Dai io mi sa che muoio Te l'ho mollato i due Eh sì il cazzo No 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 Brother dai Cagare il cazzo Non zero E non cagare il cazzo Proprio Dai avanti Accuccia Ma non entriamo Non puoi fermarti Non puoi fermarti A curarti Ma ho il boost Di velocità Tanto se tu Vai via davanti Ah no ma si è morti Bello Provo comunque a farti prendere il boost Ce l'hai adesso? Sì però C'è tu avevi solo le siringhe Non hai medikit Vero? Ho due siringhe Adesso Abbiamo gente qua Ne vedo uno solo No Sono almeno due Perché si è evoluto a viola Ha fatto bracciare in avanti Cazzo c'è c'è uno Che gli spara Ma dai che si devono mettere A fightare qua Eh però a destra Ci sarebbe il crafting Per fare un medikit Ma non mi interessa Eh no io vado lì Tanto morto per morto Quello sta ancora lì Ma che cazzo fa Beh non saremmo morti Qua sinistra Se ne è rotta No no vabbia Da pure più corta la mano Che rincoglionito Io non ho le cure però per E poi lo sfotto E niente io non entro più in safe Per rianimare sto coglione Ci sta Non posso più fare il giro Per sinistra E per destra C'era un team E per destra c'era un team E si Guardate Devo morirci io Perché questo crepa di safe Perché sbaglia il timing del medikit Diamante 1 Sta trollando di nuovo Oh c'aveva sia siringa che medikit Come ha sbagliato il timing ancora No way Vuole evanchare basso No dai Ma sta memando Dio caro Sta memando Ma che salute Di che avevi siringa e medikit Bro dai Sio porco L'hai racconto il medikit Dal crafting Scusa Il medikit dal crafting Don't steal it all then Che rincoglioni Ci avevi Tutto coglione Si Che rincoglionito Ma è serio? Non rubarle tutte Avevo zero siringa E ne ho presi due Non rubarle tutte Zero siringa E ne ho presi due Che mi servivano per Salvarmi E rianimarlo Boh Non so Insomma Don't steal it all Ah vabbè God Ho trovato il modo per scopterlo A terra perché ha missato Il timing del medikit Due volte E parla Penso ce l'avesse il medikit E l'ha craftato Non l'ha usato Se l'hai dimenticato lì Non l'ha usato Se l'hai dimenticato lì Perkè E nei Dimenticato lì Non le cazato Deistorio Continous Cazato Anthony Possius Doi S��vo Il medhigh Avviti Dimenticato Replicatore in arrivo. Replicatore in arrivo. Un ratto solo. Potremmo andare da lì, non se lo aspetterebbe. Sì. Mohamed Salag. Uno è inoccavato, mi so. No, ma non ho ancora finito. 45 secondi. L'anello non è lontano. Ok, non prendere da me. Ma vedi te. Vai a sinistra, vai a sinistra. L'anello non è lontano. 30 secondi. Lì, all'ultimo. Non l'ho mai colpito perché avevo la roba in mezzo. Però li ha presi lui, bravo. Non li vedo. E uno è riuscito a scappare. Lo sto hitando! Ah no, quello a terra sto hitando. Vaffanculo. Sto ricaricando. Che palle avevo la ringhiera di mezzo. Non ho potuto prendere l'altro. Zeca al punto. Vabbè. Minchia che seif abbiamo qua. La goduria proprio. Ma non è che questo si è camperato sotto qua. Meno male che io e lui abbiamo focussato lo stasso. Non è che si è camperato qua sotto. Voglio controllare. Anche se non credo. No, qua non c'è. Però minchia si qui ti... Non andava troppo avanti. Era qua. Ah. L'ha godratissimo io. Qua, 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 qua. All'angolino. Lui l'ho preso. Si guarda. C'è ancora il patterhut. Lì a sinistra c'è gente. Ah, hanno fatto il patterhut. C'è ancora uno. Si. Si avvicinano questi. Dobbiamo tornare indietro seba. Sì. Perfetto. Ho distrutto lo spu da un nemico. Individuata. Devo agire infetta. Lancio un fumogeno. Ma puoi rompere, per favore. Quelli hanno una safe della madonna. Noi potremmo... E non è un full team. Quello a sinistra? No, no. A sinistra è full team. Ah, a destra. Ma come? Hanno messo il bico. No, no. A sinistra hanno visto i tre. Io sono sicuro. Potremmo metterci qua e safe. Qua da me è safe. Io devo guardare queste dust. Eh, però mi sparano pure quelli di dust. Li pushano. Distrutto il pop. Oh, ho distrutto l'ightline e basta. Buono, c'è il fuse. Out out. Buono. Forse se vieni da me sono full... Sono libero io. Liberissimo se vieni ora. Dai, zio. No, no, no. Ma è l'ultimo. Dai. Ma non lo sai proprio, ho capito. Però ero restabile da uno dall'altro dieci volte qua, zio. Anche restoro non l'ha fatto subito. L'avesse fatto subito, zio porco, restaurato. Ho fatto un bel po' di danni, eh? Quanti sono? Due? Due, due. Eh, non prendo i punti. Ma io non ho preso un cazzo qua. Eh, 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 eh. Ho preso entrambi qua. Sì, sì, no, intendo di danni. Full carriato. Godo. Però ho preso un botto di punti qua. Li ho presi tutti. Tranne il crypto, ovviamente. Gravi. Grazie. Che master fatto. What's that, daddy? Nico, l'hai fatto, l'hai fatto, guarda. Non l'ho fatto. Stai trollando? Ma fatto di che? Che diocalo. Ma va. Vabbè, in verità ho fatto mille danni. Penso che ne hai fatti molti di meno. Otto punti. Le sgoschi. Dead. Ah, what's that dead? Perché tu sei morto. Sfotte perché hai vinto da morto. Easy. Sto coglione sia abbastanza. No, no, eh. Non volevi leggere quello che ti scrivevo. No. Ah, l'ho fatto veramente. Oddio. Tu l'hai fatto? No, vero. Merda, no, ma quasi. Nico, non ti fidi di me. Di me. Eh, eh, eh. Ma quanti cazzo di punti abbiamo fatto? Ehi, tanti, otto... Io avevo otto più... Ma? Io avevo otto più otto partecipazioni. Ma non fai di quanto tale, dico. Sì, sì, qui random. Ma è andata da Dio qui random, infatti. Sì, io ho pensato di staccare. Ehi, scoschi. Ehi, bella raga. Il buster mio è stato fatto. C'hai l'account di Stekic? Bella, ci si vede. A domani. Se non vuoi giocare col tuo, puoi prendere un altro account. Dici? Gioco col mio o con un altro? Decidi tu. Secondo me è meglio un altro. Eh, ma ora guardo quali ho a disposizione e te li dico, anzi. Stekic ce l'hai? Prendi quello. Non ho Stekic, mi sa, perché ho fatto sempre il login temporaneo con lui. Te li dico, aspetta. Cambia account. Sucate Itas, che ovviamente no. Sandaluccio. Jugman. Panditz avrei. Ah no, Stekic! Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Eh, allora uno Stekic. Eh, devo rimettermi tutto il senso. Puoi andare a segaccio, Edo. Edo. Sì, sì, sto facendo una che ho bisogno di parlare per farla. Ah, bravo. Qui di gioco. Edo. Effettuo logout. Stefano Ceccaroni. Non mi ricordavo di avere... Vabbè, l'account di Stekic ce l'ha chiunque. Top... Top puttana. No, microfono? Ok, giusto. È anche regolato bene. Miwa. Ehi, Miwa. Hai programmi stasera? Ehm... Fai, guardate se devo avviare Apex dalla raccolta dei giochi. Zioca! Eccolo! Il ritorno dello Stekic! Che sbatto a dover rimettere tutte le sands. Ciao. E ciao figliolo... Trailer della stagione. Nico, 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 dopo private, please. No, 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 no. Vediamo le sands. Ah, cazzo, no, 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 non ho sistemato niente. Ho le impostazioni di base. Devo rimettere tutte le impostazioni. Allora. No. Perché non ma sal... ma dio caro! Sta rollando. Ok. Salvate. Configurazione tasti. Personalizzato. Abbassati su freccetta sinistra. Cambia modalità di fuoco su R3. Bene. Che cazzo vuol dire vibrazione avanzata? Eh, l'eoreo. È quella del DualSense. Visual invertita. Nooo, zona morta movimento. Cazzo, qual'era la zona morta che tenevo? Zona morta visuale piccola. Sì. Vabbè, in caso sparo storto, chi se ne frega. Ok. Ah, zona morta tasti L2 R2. La tenevo moderata? O predefinita? O nessuna. No, tenevo nessuna. Yeah. Non ne ho idea. Questa è un guaio. Ah zioca Classica piccola Compatto Sì numero danni complessivo Sbiadito Sì no no Sì No corso automatica no Icone fuori schermo che vuol dire Ma c'è sta impostazione Metti no Ma quale sarebbe È che quando non hai i tuoi compagni nella visuale Di fianco al nome vedi anche un'icona grossa della leggenda Adesso lo fastidio Ok Dovrei avere Uh due pacchetti Ma non gliele avevi aperti No no non gliele avevo aperti Sì certo Ti pare Oh Dai a 400 monete glieli apro 4 pacchetti No Ma tanto non lo prende il pass non ci gioca Dai glieli apro Eh lo so Tu sai perché Non ha le monete per il pass E chi aveva 900 monete Mi sono regalato 5 pacchetti sul mio account No Che merda Ma regalateli sul tuo Ecco Lo sto facendo Lo sto facendo Oh Nico Nico regalami un pacchetto Ragazzi Chi vuole un pacchetto gratis Tu lo vuoi Io Io Ok dai Beneficenza Regaliamo pacchetti Poteva prendersi il pass Ma tanto non giocava da mesi Quindi mi sono regalato i pacchetti sul mio account Perché non ti trovo Edo Non ti ha come amico yay Mi sa Sì sì Ce l'ho come amico Sicuro Eh ma la F e la Z sono grandi Prova così E poi ci sono due P Ok ok Sì sì Trovato Tieni Marika vuoi un pacchetto Grazie mille Anto Anto ma tu manco C'ho amico Sì certo Come si chiama Anto E Marika come si scrive però Ma dovrebbe esserci Vabbè ti esce Con empty Penso Empty E non mi esce Mi sa che non ce l'hai come amico Ah no no Non c'è amico yay No Ci abbiamo solo piassano No no è vero E vediamo se Anto ce l'ha E neanche Anto ce l'ha come amico yay E niente Che triste Dai uno ragadono No non ci sono Non ce l'hai come amico Allora dai un altro a me Eh no no Allora tocca regalargli a Nico Ragazzi mi dispiace Sì sì Regalami Regalami che trovi No no Vabbè No ho chiesto a stea Ha detto nel caso di regalargli a Nico Va bene Ma Nova Non ti ha come amico Cioè devi essere amico EA E la merda Non amico della Sony Vabbè dai Non lamentarti Che state facendo Ci stiamo regalando cose Con le monete Apex Di Stekech Tu purtroppo Miba non sei amica di Stekech E generoso Vaglielo a scrivere Vaglielo a scrivere su Telegram Grazie per il pacchetto No dai raga Madonna Ma guarda Provassi a dire qualcosa Che quei figli di puttana Mi devono tipo 200 euro Dell'appartamento a Milano Ancora Ma perché Ma tutti No L'unico che mi Allora Steen Non mi ricordo se mi le ha dati Mi pare di sì In contanti Guido Dice che mi ha fatto il bonifico Io di lui mi fido E Mastro il bonifico Non me l'ha fatto Non è vero Cioè ho controllato Se non sbaglio Un bonifico L'ho ricevuto Da 60 euro Che me l'ha fatto Gui Il mastro Non me l'ha fatto Non è vero Poi che cazzo di bonifico Deve fare Che c'ha 14 anni Mazzio porco Sono stato scammato Ma che cazzo dici Ce ne avrò 18 almeno Ma no Scherzo Ne ha sì 17 No di più Di più che 17 No non ne ha compiuti 18 ancora Ma sì No mastro No non ne ha compiuti No non ne ha compiuti 18 No anto Non credo Qua l'unico che può essere Bostato Certo Certo 2 Dai inizia a cercarti Una buona connessione Stagg Stagg Marica Plat 1 Eh Che male questo Ah guarda Qui do Schermastro Stanno giocando Ranked Confini del mondo Top 2 Cazzo aspetto Ho lasciato i sottotitoli Attivati Me ne sono accorto adesso Cioè Ti compaiono anche In lobby Sottotitoli Dio buono Dai Dai Un plat e un diamante In duo queue Se ci trova lobby pred Zio cane Si spacca tutto Bella puntuto Sei arrivato un po' in ritardo Purtroppo C'è Appena stato Alla beneficenza Fosse arrivato prima Ti saresti potuto prendere Forse un pacchetto gratis Da stackage Perché aveva delle monete Nell'account E abbiamo fatto giveaway Di pacchetti Perché io sono sicuro Che La sua volontà Sarebbe stata questa Di usare le monete Per la community O sia Nico Perché ho dato un pacchetto A E2 e 3 A Nico Com'è giusto che sia Ehm Partita con la sense Di stackage Non credo Cavolo Cioè beh Sì potrei Tanto Io il master L'ho fatto Eh ma le ho già Cioè no Non le so Le sense di stackage Però Ho messo le mie E poi prima C'erano quelle standard Però Sarebbe l'evoluzione Della challenge Partita con la sense Di stackage Nell'account Di stackage Uccisioni Minchia Stackage Sce a 17.000 partite Boia Questa stagione 4,6 di KD Bravo stackage Sa come mai Che forte Guarda qual è il ranked 5,84 Ma in che stackage In ranked Sì sì Vediamo stackage Allora Stagione Stagione 18 1,21 di KD Stagione 19 2,3 Stagione 20 3,57 Un bel miglioramento Stagione 21 4,6 Cioè questo ragazzo Sta avendo una parabola Di miglioramento Sta facendo proprio Ormai è più o meno L'account che il suo Letteralmente Cioè io ormai Non gli sto nemmeno Chiedendo più il permesso Di Ma perché ti sei regalato 5 pacchetti E non 9 Eh perché 5 Erano i giornalieri Poi non ho più Ah ma scusa Ma se regali 5 pacchetti insieme Come con il bundle Tipo non te lo conta Come un regalo Non ho provato Con il bundle Eh ma c'è il bundle Da 5 Mi sa che Massimo C'è il minimo Ma io ho fatto Come si fa No intendo il bundle Nel senso C'è tipo Regala 10 pacchetti Ah no no Non c'è da 5 10 sì 5 no Ok Eh perché Se fai regala 10 Mi sa che ti conta Come un regalo Ovviamente Mi ha ciucciato il drive E li ha preso in automatico La life Promette molto male È la leggenda Con più kill Ti dico solo questo Visto che gliel'ha preso in automatico Let's go sky Let's go Io l'ho detto Altre due ore Per 100 punti Dai Ne mancano 100 O di più 95 Minchia Finiamo domani mattina Qua Beh i miei punti Li abbiamo fatti comunque Cioè i miei Vabbè anche tu li hai fatti Però nel senso I punti per il mio master Li abbiamo fatti Quei random Abbastanza easy Cioè alla fine A parte le prime tre Quei random Ma io non pensavo Stessimo così Io ce l'ho detto Io pensavo Ma la pena di 100 200 punti E saltare Chiudete la bocca Se non volete mangiare le mosse Eh beh Ecco che questo è il bello Di non tornare mai in love Ma infatti Anche perché Se avessimo visto Che mi mancava poco Per il master Magari sarei stato Influenzatos Due team Eh P100 c'è un team Eh prego Cosa prego Eh perché lui ha detto Master fatto E quindi Prego Perché è merito suo Ma me prego Perché ha detto Master fatto A fine partita Quindi Sì Merito suo Ora c'è un altro Master da fare Nella lobby È tutto Forchè tranquillo Un minuto alla chiusura Dell'anello Correre e scivolare Cerco Speedfire Carabinino E roba così Eh Io ho la P20-20 L'arma migliore Che ho trovato È una P20-20 Anello lontano 45 secondi Qui c'è una cella a scudo Qui c'è un'occhica Mediorello Dio bestia Qui c'è un op-up Perfora scudi Non è vero Lo prendo C'è l'alternator Di fianco Ho lasciato un leggero bianco L'hai preso tu? No Non l'ho preso io Ah ok L'ho trovato No Te Il 24 l'hai preso? No Top 18 Già si vede Con una partita lenta 10 secondi L'anello è lì davanti Quanto vorrei Vedere il replay Siamo fuori Tra l'avvento Già Non potranno Uniditi Se siete già morti Figlio di grandissima troll Ma Ido Marika Ha detto che non gioca più con te Droni di guarigione Se mi hai bisogno Potenziamento a te Eh ciao Puntuto Dai Per farmi perdonare Se stai che ci ottieni Qualche moneta dal battle Ti regalo un pacchetto Eh no Il battle Sì A livello A livello 90 No 100 Quelle altre monete free Eh Per farmi perdonare Visto che c'è la carta di credito Collegata Shop Qualche pacchetto E te lo regalo Raigan è A2 Di carte collegate Più il paypal Dimmi C'è qualche bundle Che vorresti Puntuto Tanto è tutto gratis In questo account Se fai i regali Ignoralo Sferriamo un attacco lì Nemico laggiù Esploriamo da qui Oh la carabinata Non sta c'è solo Ostile individuato No no Infrantumi Rilasco drone di guarigione Cosa? Ah pensava di essere Ravenant mi sa E qui Gli avevo fatto 60 Io Quanti 3 Eh il brother pensava Ad essere Ravenant Più di Ashe Eh mamma È un Horizon che si sa anche muovere E io non c'ho accessori Ciao Shark Let's go Schi Baka waka un altro zio Fa altro Eh è sempre lui È sempre lui È qui da Xbox È il team full thread Eh fa appunto No 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 Fatti capito Vado a casa così Anzi vado da lui Sì solo Eh ma È che mi sparavano Stavo cercando di arrivare da voi Li sento arrivare Sale qua mi sa 160 blu alla lifeline Alla mia porta Alla mia porta Non ce l'hai Preso lui E il lifeline era uno di vita Crack lui Venga Da la Niente La ori È craccata qua Ti butta su di te Ricarico gli scudi Un secondo Stiamo sparando Scudo nemico Sto ricaricando Sei l'hai Flime E anche lui è l'hai Flime però Ricarico Dov'è il nostro Knock Provato Lo sento io Comunque sopra Sì era sopra Era sul tetto Prima È sul tetto ancora È sul tetto ancora Mi sto curando Te l'ho hitto forse 70 gli ho fatto Dovete andare ora Ok è morto Porco diaz Che parto È che io l'arresti dorato Non ho fatto in tempo A dargli Ma manco sapevo di avercelo Beh è andata Molto bene Peccato che sta Lifeline doveva essere Morta Inizio fight Zio Kahn L'ho fatto 160 Sfiga Ricarico gli scudi Mi sto curando No no luta To niente Che sta No non voglio morire Che poi vado a terra Ok poi morio subito Ma dai Va bene Eh ho capito Sono andato a terra Due tre volte Cioè poi vado a terra Full Ma non devo morire Ma che vuoi L'arbor ce l'ho già Zio Kahn Ho quattro medikit Che cosa dobbiamo fare Quattro di morire Dio buono Ma cinque medikit Andiamo da spaccatura Vabbè però A me fa piacere Che l'abbia detto Perché vuol dire Che ha un quotiente Intellettivo Abbastanza alto Vuol dire Che non è stupido Se ha proposto Questa cosa È abbastanza Intelligente Tovi the tree Non era six manner Lo avete trovato L'altro giorno Ehm Boh Non mi ricordo Che Tovi the tree No Non era Six manner Dobbì l'albero Aspetta Me lo ricordo Tovi the tree Perché? Perché in lobby Anche io me lo ricordo Però non mi ricordo Sì 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 Era la Era l'albero Era l'albero Era l'albero E non gioca in mod anonimo Boh Non sono sicuro Fosse six manner Ma mi ricordo Il nome Ecco la medicina Ebbè il nome Me lo ricordo Bacca wacca Bacca wacca E E Ciao Mina mina Ciao Jake Faccio Vado a craftarmi Una batter Vabbè dai Alla fine Il tuo master Lo facciamo In una partita Sola Vabbè Ecco Perché stai zitto Nuovo livello Ora devo scegliere Un potenziamento Ho scelto Il potenziamento Immagina prenderlo Io che ero già viola Che coglione Che stronzo Che figlio Best main conduit Cazzo c'è un dragone Perché sono Armon red Quindi Best main conduit C'è un ratto da me Sì 100% Un ratto Eh Non fincarlo Eh Vabbè GG Pure tu Ecco la medicina Oddio caro Però Ma che cazzo Me lo cogli a fare Se poi te lo fai full Ma Capisco Ma perché avevo paura Che scappassi Avevo paura Che scappassi Dove devi scappare Una conduit Cioè Mi collo il ratto Arrivo E se lo fa Capisco Se Se ci sei O ci fai Ma che ci sei Ma Metti che poi Non era veramente Un ratto Meglio non rischiare Visto che potrebbe essere La partita decisiva Eh ma guarda C'ho un dubbio Su tua madre Ora Non ce lo fio Eh Ma poteva Cioè Visto che potrebbe essere La partita decisiva È meglio non rischiare Magari era un full team Eh già Io avevo Il knock libero lì Magari non rischiare di fargli fare più punti No no Eh ma devo fare una maestria Sulla partita Se mai la faccio in un game Il master No no Devo farlo tipo in due almeno Eh esatto In uno non dava bene Eh no Minchia Comunque Hanno aperto un drop Nel mentre che io venivo da te Avvio la festa Che cazzo viene festa È già fatta Eh ma per festeggiare No Che copre l'audio Ciao Francesco Ma questo ci muore Ma che Ma che è andato a fare precisamente A aprire la sua casa Per diventare Vabbè Per diventare viola Top 6 dai Teniamo questo top E i 90 punti li fa easy Nel chill Madonna Se non ne faccio Se non faccio Per 5 punti Se non faccio il master Mincazzo Se per 5 punti Non faccio il master Noido Magari che farà da sola Il diamante Cioè lo farà lei Con le sue mani Ma Guarda qua Guarda le bistec No vabbè Si gioco anch'io Ma voglia Tra fighe Oh bruciacchiate Oh arriva gente Però li stavano sparando È un solo Ti è buttato? Non lo so Io tengo il top Se è un solo Tanto dubito Che ci moriate In 2 di 1 Easy Fred pure Lesgoski Loro vanno da di qua Invece Quanto hai adesso? Più? 63 Facile Ma non è che è semplice Alla fine è un game solo Vedi veramente No è quasi 1 Una horrible Sono red comunque Red e viola Sì ma dobbiamo fare top 3 I vacanzi nostri Una top 3 Nel shillong Quindi lì 2 è full team Noi siamo un full team C'è un ratto da qualche fa Ci mancherà Raid a dono Però Zip zip Su balone Il ratto Quasi gratto Non è ratto Chi red sono Che cazzo è Vabbè in testa gli altri Vanno Va benissimo Sì Ho sentito sotto Ho sentito una scivolata sotto Ma non ho guardato Ci sono ratti Uno solo Quanti 10 Punti Quanto 73 C'è come con top 5 Con top 3 Non si fa Secondo me sì Perché top 3 Cambia anche il moltiplicatore Dai Bersaglio individuato Facciamoci i cazzi nostri Granata a frammentazione Ma infatti io sto qua Marika Allora Non vorrei Dire Essere antipatico Però Comunque non è che Te lo sei fatto da sola Perché Seba qualche partita L'ha fatta nel tuo account Lo sappiamo tutti No no Stasason Ah vabbè Ok Ah vabbè La season scorsa Sì ma perché Poi io sono partita Questa season Una sera Ha giocato col tuo account Ah è vero Aia Quindi Quando tu lo farai Io ti dirò Diamante non meritato Grazie Vabbè Togliamo il run E se fai il diamante 3 E merilo Esatto Se fai il diamante 3 È meritato Mi sto cercando Il rattino qua Tanto il diamante 3 Lo fai perché Le lobby sono le stesse Ho trovato il ratta Dipende da quanto tempo Ho per giocare Però Ho trovato il ratta Ma sì Vabbè Tanto dovrei fare Sì Che palle Poi parte L'anello è vicino Basta anche che lo facciano loro Il ratto Easy vabbè Il ratto Pred pure Sì l'avevo visto da lontano E allora C'è il totale Però Qua dietro siamo safe Meglio cambiare aria Andiamo qui L'anello è vicino Ma mancano Mi stanno sbarando Mi stanno sbarando Mi stanno sbarando Non lo vuole proprio E farsi male Ecco la medicina Attenzione Festeggiamo Vabbè Buttiamoci fuori safe Tanto l'hai fatto Non importa Oh ma che vuoi Fuoco Mi stanno sbarando Eh ma col team Ha la casa in safe E questi qua Hanno la montagna in safe Ma uno pusha Eh Push us Minchia tutti Amlock comunque Sì appunto Che noioso Ti fatti i cazzi tuoi Ricarico gli scudi Sparano tosso Sparano tosso Sparano gli scudi Sto bene Niente paura Ma perché ne sento uno Che si avvicina Mi serve un caricatore Leggero e steso 45 secondi L'anello è vicino Qui c'è un caricatore Leggero e steso Livello 2 Grazie Dai Più di essere un knock E scudi? Abbiamo un'amplificata Agli scudi Che palle sto Amlock però Ma no Volevo griffare il team Ah io ultima sinistra Gli ho fatto 110 red Ah beh lui è morto di safe Molto grave Io sono morto a fine battery Che sfiga Che ti aspettavi Cammino a braccetto Con un buco nero Con diazze Lol Lui è caduto dalla montagna Che figo il ciondolo di lifeline Rattutono Ma uno è morto da nello Vabbè vale colpirlo Gli altri vale dargli un hit Zio cane Vabbè Zodo Li ho potuto prendere la mano In vita Ah Ciao Nico Ora che avete fatto il master Che fate Vado a cenare Amto Che faccio Vado a cena Vado a cena Che bello Una partita sola Io l'ho detto subito Cioè no Non l'ho detto subito L'ho detto dopo il primo fight Però Cioè quindi lui Il caricatore che gli ho dato Non l'ha neanche mai usato GG Io mi sono tolto Il caricatore dalla mia arma Per darlo a lui Zio cane mo È caduto Vabbè Dai Steakage quasi Platino 2 Ci sta Speriamo che ci arrivi Anzi no Entro un attimo nel mio account Che voglio aprire i pacchetti Che Mi dovrebbero essere arrivati Dei pacchetti Penso Una forse promo Pacchetti del Playstation Plus Ho i pacchetti del Playstation Plus Da aprire Eh però Edo Segretario Rimettimi in the party Invite me again Che bello è Che era Quando si poteva rientrare Nel party Senza l'invito Perché hanno cambiato Sta cazzata Era Assai bello Dove sono Oh Tre pacchetti Ah tre pacchetti Oddio Steakage mi ha inviato Un regalo No Ma non dovevi Grazie mille Immaginati Cimelion I pacchetti regalati Da Steakage Che schifo Pacchetti Pacchetti Veramente 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 Deprimenti Pacchetti buttati Ma per fortuna Non li ho presi Con le mie monete Che palle Ma quattro pacchetti Cioè quattro Tre a me Più uno a Edo Tutti e quattro Bianco bianco blu Zio porco Raidiamo Leus Regalo un pacchettino Come faccio? Eh non ho le monete Quando le avrò Il prossimo pacchetto Lo regalo a ghiaccio Venato Ossia tra Quattro livelli Cinque livelli Del battle pass Quindi penso domani Domani pacchetto Regalo per ghiaccio Venato Immagina staccare Le ventitré Cavolo Non ho fatto La pausa Prima Non ho cenato Voglio andare a cenare Il master è stato fatto Riflexiamolo Va che bello Ma che poi Poi aspetta Quanto ti da Di bonus Rank up Cioè quando arrivi a master Quanti punti ti da Sopra il master 250 è il bonus 300 No non può essere Perché sono a 15.250 Quanto è il bonus Per il rank up Cioè di quanto L'ho fatto Di quanto l'ho fatto Il master No no Promozione ti da 250 punti Ti da la promozione Io sono a 15.250 Ciò vuol dire Che il master L'ho fatto Preciso Cioè ho fatto proprio I punti precisi Ho fatto i punti Precisi Precisi Che servivano Per fare il master Perché poi Con i punti bonus Sono arrivato a 15.250 Cioè mi mancavano 2.34 E ho fatto 2.34 Boia Boia Si gode Che buco di culo Davvero Infatti mi sembrava strano Che ho visto 15.250 Mi sembrava Mi sembrava strano Che culo Facilissimo Quindi sarò tipo Il master L'ultimo master Al mondo Perché ho proprio I punti Quelli precisi Più il bonus Vabbè a parte Quelli che avranno Fatto delle partite Per perdere punti Però proprio Il minimo Dei punti Che puoi avere A master Tipo A meno che Tu poi Non li perda Top precisione Let's go Va bene Buona serata Io vado a cenare E poi Si spinge Su Brawl Stars Da mito A leggenda Perché ho fatto Diventare Marica Depressa Che ho fatto? Cosa ho fatto Di male? Non credo Ah per le lobby private Eh vabbè dai Ma le puoi fare Lo stesso Andate tutti A giocare Le lobby private Di Marica Divertimento Assicurato Tutti Di Spitfire Top Divertimento Pazzo Ciao Eh vediamo Che fare domani Dopodomani Perché minchia Il master mio è finito Il master di Raigadono È finito Il master di G-Shadow È finito C'è niente da fare Per 11 giorni Boia Che cazzo faccio 11 giorni Su Apex Legends Si torna su Defiant Domani si torna su Defiant Si prova la patch nuova È uscita la patch Cunner Fatto i salti E gli sniper Si torna su Defiant Si torna su Defiant A provare la patch nuova Ho Come